Musica Ciao per il sito, chi è Fabio Visone? Sono Fabio Visone, classe 83, centrocampista centrale, nato a Napoli Caratteristiche tecniche, cosa ti piace fare in campo? No, a me mi piace giocare a calcio soprattutto e poi vincere, la prima cosa Ecco, piede destro, piede sinistro, quale preferisci? Destro, sono destro naturale, però gioco a sinistra A giochi a sinistra, hai già giocato, che le so, a centrali di centrocampo, esterno? Sì, sì, no, io, il ruolo mio, ho giocato, con mister, ho giocato sia esterno che centrale A sinistra e ho fatto quasi 29 partite Che ricordo hai di Ugolotti a San Benedetto? Che persone? Mi sono una brava persona, mi piace lavorare Vuole il lavoro svolto bene in campo E niente, vuole che ci sappiamo, questo è possibile Ecco, la salvezza di San Benedetto è assimilabile alla salvezza che dovete cercare di raggiungere a Foggia? Ma secondo me la salvezza qua la possiamo raggiungere perché come gruppo ci siamo E ci sta pure la piazza per fare buoni risultati Ecco, le prime impressioni a Foggia nello stadio? L'impatto da dove vengo, l'impatto è fortissimo perché Foggia è una piazza importante Al pubblico da stimolo e questa è la cosa importante La penna, l'obiettivo? L'obiettivo è vincere, poi le partite sono attimi Difficile capire, se interpretare No, noi, purtroppo io personalmente voglio sempre vincere Poi le partite si svolgono diversamente Allora ti toccherà segnare Eh, speriamo bene Grazie Grazie